Ciao ciao a tutti, oggi non siete in mezzo ai peperoni ma in mezzo alle mele. Vi trovate più a vostro agio? Sì, mi fa piacere. Pacchettino! Allora, sapete che io sono appassionata di Yankee Candle e in particolare ultimamente mi piacevano molto quelle alla vaniglia. Allora, mia figlia mi ha detto mamma guarda che sul sito Case Regali la fragranza del mese è in offerta col 25% di sconto. Potevo forse io rinunciare a questa magnifica occasione perché in realtà ho varie tart che hanno come ingredienti la vaniglia ma vaniglia pura non avevo niente. Quindi ho approfittato perché l'ho sentita quella vaniglia pura da mia figlia. mi è piaciuta tantissimo quindi mi ho approfittato. E quindi mi sono comprata invece che la jarra grande o media due jarre piccoline perché a me piace cambiare spesso e quindi ecco qua questa è proprio vaniglia pura. Ecco qua. Ah, aspettate un attimo perché... No, niente, niente, dopo, faccio dopo. Mi era venuta in mente una cosa ma faccio dopo. E dicevo appunto ho preso le due jarre piccoline perché almeno iniziano, finiscono in poco tempo, non ho problemi che ci sia il deposito intorno e in più appunto posso cambiare spesso. Il profumo è favoloso. Per chi ama la vaniglia, questo davvero è fantastico. E queste sono le due piccole jarre. Poi a loro mi hanno messo anche in omaggio questo votivo. Questo è il regalo. Questo è praticamente ghirlanda di mele ed è mele rosse e cannella. Allora, c'è forse una predominanza del profumo di cannella e questo non è che mi entusiasmi molto. Sì, mi piace il profumo di cannella ma deve sentirsi appena appena. Questo è un po' troppo. Anche se io avevo già una tart con questa fragranza, un paio di tart e una volta bruciata non si sente così tanto. Si sente più così col pezzo intero che bruciandola. E poi ho comprato un po' di tartine. Eccole qua. Ve le faccio vedere una per volta. Allora, siccome non avevo capito bene, ho preso un'altra tartina solo vaniglia. ecco qua. Troppo buona vaniglia. Poi, questa. A me piacciono tanto le fragranze agrumate, fresche. Quindi sono più o meno tutte su questo genere. Questa è il limone di Sicilia. Quindi, proprio una fragranza molto fresca. Fresca e delicata, però allo stesso tempo davvero buona. Questa penso che la ricomprerò perché è davvero buonissima. Poi, questa. Che non mi ricordo cos'altro c'è, però alla base c'è il fiore crisantemo. Questa non l'avevo mai acquistata prima. Buonissima anche questa. Diciamo che tra, forse tra limone e questa. Preferisco questa. Strano a dirsi, ma è così. Perché sì, ha il profumo del fiore, ma non è dolce. È molto buona. E poi questa, invece, mandarino e mirtillo. No, non è mirtillo. Sì, sì, è mirtillo. Mandarino e mirtillo. Quindi, un tono di agrume c'è sempre. Buonissima. Buona anche questa. Buona. Per restare ancora con gli agrumi, questa, miele e clementine. Anche questa è profum... Ah, questa è intensissima come profumazione, ma non è persistente. Non quelle che fan venire mal di testa, per intendersi, ma è bella decisa come profumazione. Davvero buona. Clementine e miele. Il miele non si sente tantissimo, però è buona. Poi questa... Io ho una predilezione per le creme e i bagni schiuma con la fragranza all'argan, all'olio di argan. E questa, appunto, questa tartina, come base è proprio l'olio di argan. Un profumo davvero... Mmm... Può creare dipendenza. Poi questa, My Serenity, che se non ricordo male è un misto di fiori tropicali, vaniglia anche qui. Delicatissima, molto... Un profumo molto rilassante. E per finire, questa, che sicuramente rimarrà tra le mie preferite, la voglio ricomprare, perché la profumazione, guardate qua, è praticamente il profumo degli asciugamani appena tolti dall'asciugatrice. Quel profumo di fresco, leggero. Adesso io non ricordo... Ehm... Penso ci sia del gelsomino, tra le altre cose. E poi sinceramente non mi ricordo le altre componenti. So solo che è buonissima, davvero. E quindi, eccomi qua. Queste sono tutte le mie tartine che ho comprato. In più loro mi hanno messo appunto il votivo in omaggio. E... I fantastici, le fantastiche giarette alla vaniglia. Profumo adorabile. E con questo ho finito. Ehm... Vi lascio il link di case regali, sito appunto dove acquisto io le Yankee. Ve lo lascio l'indirizzo nell'info box. Ehm... Bello perché ogni mese appunto c'è una fragranza. La fragranza del mese è scontata al 25%. Ehm... Nel... Sotto forma di giare soltanto, però. E si può scegliere tra la grande, la media e la piccola. Vi saluto tutti di nuovo con un abbraccio e un sorriso. E al prossimo video. Ciao ciao.